Ups a tutti i miei cari Upsini e Upsine, come state? Oggi sono super contento di essere qui a registrare per voi, perché questo video sarà un video molto importante, infatti ti chiedo di prestarci molta molta attenzione, perché nel video di oggi leggerò un po' di positive affirmation per il nuovo anno, perché questo video, se non sbaglio, uscirà il 28 dicembre, quindi oggi sarà il 28 dicembre, prima di tutto fatemi sapere com'è andato il vostro Natale, io voglio sapere tutto, 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 tutto. Secondo, manca veramente, veramente poco al 2024, l'inizio di un nuovo anno, perciò poi dobbiamo essere pronti ad accoglierlo, e quale migliore modo per accoglierlo, se non con un po' di positività? Secondo me non c'è. In più, questo video è anche molto speciale per un altro motivo. Sì, perché il 30 dicembre del 2019 uscì il mio primissimo video, quindi ormai quattro anni fa, proprio per questo questo video sarà anche come uno speciale, diciamo, sia appunto per quanto riguarda il nuovo anno che arriva, sia per quanto riguarda l'anniversario del mio canale, che farà quattro anni il 30 dicembre, quindi se oggi è il 28, dopo domani. Sono veramente felice, non avete idea? Perciò io ora vi dico e vi chiedo di indossare un paio di cuffie o auricolare, di stendermi nel vostro letto e ascoltarmi un po', va bene? Prima di tutto vorrei dire una cosa, che oggi vi guiderò in queste positive affirmation per il nuovo anno e quindi un nuovo anno, cercando di assorbire tutte le energie positive e le opportunità e di abbandonare ogni tipo di negatività. Queste positive affirmation sono uno strumento potente per rilassare la mente e manifestare i tuoi desideri e creare dei cambiamenti positivi nella tua vita. Ripeterò ogni affermazione due volte, dimmi la, quindi la dico una volta, la dico un'altra volta e poi ti lascerò un po' di tempo per ripeterla anche tu. Perciò per questo ti chiedo di rimanere concentrato, in quanto dovrai ripetere anche tu quello che ho detto, va bene? Perfetto. Io ho preso qui con me tre oggettini per tenermi un po' compagnia anche con le mani mentre leggo, e li userò. Ok, iniziamo. Allora, ogni positive affirmation io la dirò al maschile, ma voi dovrete dirla se siete dei maschi al maschile o delle femmine al femminile, va bene? Faccio un esempio. La prima. Sono grato per tutto ciò di positivo che mi è accaduto quest'anno. Tu potrai dire anche sono grata per tutto ciò di positivo che mi è accaduto quest'anno. Ok. Perfetto. Sono grato delle lezioni che ho imparato e sono orgoglioso di quanto sono cresciuto. Un po' più lunga. Ripetiamola. Sono grato delle lezioni che ho imparato e sono orgoglioso di quanto sono cresciuto. questo è l'inizio di un nuovo anno stupendo. Questo è l'inizio di un nuovo anno stupendo. dobbiamo crederci. Dobbiamo crederci. Bravissimo. 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 Sono pronto per un nuovo anno pieno di gioia e amore. Sono pronto per un nuovo anno pieno di gioia e amore. perfetto. 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 Ancora una. E poi cambio strumento. Ecco. Cambio trigger. Sono pronto a creare davanti a me una vita di successo. Perfetto. È una buona memoria eh. Io non so se me le ricorderei tutte dopo averle sentite solo due volte così. Cambiamo. Vorrei prendere un po' questo bel 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 bel. Sono forte, capace e sono abbastanza per la vita che voglio. Quindi. Sono forte, capace e sono abbastanza per la vita che voglio. Perfetto. Sono pieno di gioia, pace e positività. Perfetto. Sono consapevole delle mie abilità e del mio potenziale. Sì. Sono consapevole delle mie abilità. Sto diventando la migliore versione di me. Posso il pennello. Adesso ho l'ultima serie di positive affirmation e poi dopo magari si avanzo un po' di tempo. Perché secondo me sì, ci diciamo qualcos'altro, ecco. Ho deciso di prendere per quest'ultima serie di pazzoletti. Mi amo e sono fiero di me. Mi amo e sono fiero di me. Perfetto. Perfetto. Questa è un po' più lunga. Metto in primo piano la mia salute e mi prendo cura della mia mente, del mio corpo e della mia anima. Perfetto. 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 positive e piene di amore. Sono circondato da persone positive e piene di amore. Sono pronto a creare la vita dei miei sogni. Ho tutto quello che mi serve per riuscire nei miei scopi. Perfetto. Mi fido dei tempi che mi servono per diventare chi voglio diventare. Mi fido dei tempi che mi servono per diventare chi voglio diventare. Sono coraggioso e brillante. Sono coraggioso e brillante. Sono pronto ad accogliere il cambiamento. Sono pronto ad uscire dalla mia comfort zone. Sono pronto ad uscire dalla mia comfort zone. Perfetto. E l'ultima. Sono pronto a ricevere la benedizione di questo nuovo anno. Perfetto. Sono super orgoglioso di te. da che appunto il 2024 ha le porte e credo sia arrivato il momento di decidere quali sono i buoni propositi di quest'anno? Io in realtà non ci ho ancora pensato. vorrei continuare a fare tutte le cose che sto facendo nel migliore dei modi. Quindi sia per quanto riguarda la scuola. Perché adesso io sono in quarta liceo. sia per quanto riguarda tutte le mie passioni. Il Kpop. I videogame. La lettura. Per quanto riguarda tutti questi ambiti. vorrei proprio trovare il tempo per riuscire a fare tutto ecco. Tutto. E vabbè poi per il resto ci penserò su. Intanto abbiamo un anno intero adesso. E questo è. Però voi dovete assolutamente raccontarmi come avete passato il Natale. e come passerete Capodanno. Perché io Natale lo passerò dai parenti di mia mamma in provincia di Caserta. Quindi giù 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 in Campania. Perché sono veramente veramente tanti anni che non passiamo un Natale lì. E quest'anno abbiamo detto perché no. Invece Capodanno lo passerò come tutti gli anni qua. da me ecco a casa mia qua. E niente ditemi se avete delle cose particolari che volete fare. Io quest'anno non mi interessa. Quest'anno ho deciso che la vigilia di Capodanno. Quindi il 31 sera giusto sì. ho deciso che mangerò i dodici chicchi tuva sotto al tavolo. Perché ho visto che portano a tutti tanta tanta fortuna. Ci voglio provare anch'io ecco. Sì. E niente. Aiuto mi si è tappato un po' il naso. Vabbè. E quindi questo è. Io penso sia giunto il momento di darti la buona notte che dici. quindi. Cucu. 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 Di te ecco. VABENEME Il video di oggi purtroppo finisce qui. Ma se tu vorresti stare ancora insieme a me. Io ti lascio il mio video precedente. Di qua una mia playlist. E qua il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai. VaBENE Allora non mi resta che mandarti un grande bacio. e augurarti la buonanotte 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 buonanotte